Altro filmino nella caserma di Bolzanetto con un po' di veicoli, questa volta di uso comune. Personale femminile non c'è, come? Personale femminile non c'è, non so, può darsi ma non credo. Questa abbiamo la griglia rialzata davanti, vedi la griglia come la alzano quando va normalmente? Qui abbiamo un rimorchio, questi sono pullman di trasporto con la scritta al contrario che così si vede nello specchietto retrovisore. Questo è il pullman azzurro della polizia stradale, quello che si trova in autostrada a volte, bello, nuovissimo. E qui abbiamo una serie di veicoli in dotazione alla polizia di varie marche, attualmente questo che è una Lancia, questa è una Subaru 4x4, questa è una Jeep 4x4. Qui di nuovo una Lancia, una Jeep, questo un BMW, questo qua di nuovo una Lancia, altro BMW. Un BMW Finiamo il giro, eccole qui, una則α Subaru, Lancia quando c'è che tu che sta a 2 euro lì fermo, dave le maschè dave, che levava a patente e non puoi in via Bobbio, quelle strade distrette, se no questa sirena... c'è Clemente che sbraita, va bene? ecco qua, cos'è tighe? ciò, per quelli che suonano così la sirena, ora non qua perchè si fa po' fighe ed eccoci qua all'uscita della caserma Nino Bixio della Polizia di Stato a Bolzanito vi ringrazio a tutti per l'attenzione